e le persone che fino a questa sera hanno seguito le nostre feste ok, allora, balletta d'eccezione questa sera, alcuni di voi l'avranno riconosciuta la Miss Jennifer 2011 eletta al concorso di Miss Trastana un applauso alla Jennifer che sarà la nostra balletta, anzi la vostra balletta ma benissimo, andiamo veloci, veloci, veloci perché sta per arrivare la mezzanotte e il nostro spettacolo sarà un spettacolo per essere giudati qui, crocifissi al murro, ma come ricordato oh, no solo una signora, una tutta estrella, tremenda viva no solo una signora, una terrua, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore oh, no solo una confe in Italia Mo la cuore, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore, la cuore Fare qualche metodo in là, dalla mia esventura, dalla mia paura, che avvo la plana, per essere ricordati qui, per non sapermi volare. Ma come ricordando ora, non sono una signora, una tutta estrella nella vita, non sono una signora, paura del cuore, che avvo la plana, per essere ricordati, non sono una signora, una tutta estrella nella vita. Questo è solo l'inizio, spero vi stiate divertendo, questo appunto, come dicevo, è l'inizio di un nuovo anno, con tutte le artiste di Drag Company. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.